Pubblico delle grandi occasioni, quello di ieri, domenica 6 settembre, ad Agropoli presso l'Aula Consiliare del Comune per la presentazione ufficiale dell'US Agropoli Calcio 1921. La società storica agropolese che si avvia verso il centenario insieme a soltanto altre quattro squadre in tutta Italia, un traguardo ambito da tutte le società di calcio italiane. Erano presenti il primo cittadino di Agropoli, il sindaco Adamo Coppola, il sindaco di Capaccio Pestum Franco Alfieri che da sempre è vicino alla società con azioni istituzionali importanti e di grande incisività operativa, il delegato allo sport Giuseppe Cammarota sempre attento e disponibile alle problematiche e alle esigenze della società sportiva, il presidente onorario Domenico Cerruti che per anni ha portato avanti con sacrifici e passione la società regalando le grandi soddisfazioni. L'attuale presidente Nicola Volpe che è cresciuto con l'US Agropoli e si è sempre speso per renderla valorosa, competitiva e avvincente. Il direttore tecnico Rosario Gaglione che ha fatto suo l'impegno quest'anno di portare la società verso il centenario e puntare a traguardi sempre più ambiti. Il nuovo allenatore mister Carmine Turco, il presidente storico Bruno Meola, gli Ultras Fabio Cortazzo ed Enzo Di Filippo che hanno dato prova di coraggio, affetto e infinito impegno nei confronti della società, soprattutto nel periodo di grande crisi ed è grazie a loro che la squadra oggi è, come si suol dire, pulita. L'Agropoli è di Agropoli, non è di Cerruti, né di Caglione, né di Puglisi. Gli uomini passano ma resta la storia della città, dell'Agropoli e lo dimostro il centenario che l'anno prossimo si farà. Quindi ottima manifestazione però bisogna stare tutti quanti vicino a questa squadra e remare tutti per lo stesso verso. Io ho avuto tante altre esperienze calcistiche, ho avuto un'esperienza importante con la Turris che rimane la mia squadra perché io sono uditore del greco e chiaramente sono tifosi della Turris. Diciamo che mi sento agropolese d'adozione perché sono 50 anni che frequento Agropoli e quindi per questo poi mi sono avvicinato ad Agropoli. Quest'anno ha insistito molto Nicola Volpe, Franco Alfieri, il sindaco Coppola e quindi mi trovo a fare una collaborazione con l'Agropoli. Ma ho avuto tante altre esperienze calcistiche, ho fatto l'arbitro per 18 anni, quindi diciamo che ho ricoperto nell'ambito calcistico parecchi ruoli. Questi ragazzi sono stati non eccezionali ma di più perché hanno gestito una situazione che secondo me l'Agropoli rischiava dopo 99 anni di fallire. Questi qua sono stati non eccezionali, torno a ripetere, ma di più perché hanno fatto un miracolo. I miracoli, come dicevo prima, è difficile che si ripetano perché hanno preso una situazione assurda. Non voglio dare colpa a nessuno di quello che è successo l'anno scorso ma l'Agropoli ha rischiato seriamente di fallire. Quindi va un applauso a tutti questi ragazzi che si sono prodigati per far sì che l'Agropoli attualmente è una società che non ha neanche un euro di debiti, una società sana e pulita. Devono tornare tutti allo stadio perché, come dicevo prima, l'Agropoli è della città di Agropoli, non è di nessuno di noi perché noi passiamo ma l'Agropoli resta. Quindi si devono riavvicinare all'Agropoli Calcio e poi il tifoso non deve essere tifoso solo quando si vince, ma il tifoso è sempre tifoso. Quando si perde, più di quando si vince. Quindi io cedo a tutti i tifosi di Agropoli di avvicinarsi di nuovo all'Agropoli.